Noi siamo ospiti di una terra, il nord-est, che ha fatto della capacità di combinare libertà e sicurezza un elemento di successo. Qui c'è stata imprenditorialità dal basso, iniziativa dal basso e c'è stata sempre anche una comunità che ha presidiato fortemente i suoi valori. Quindi è un esempio, certo nel passato, di un territorio che ha saputo mettere insieme il meglio della libertà e il meglio della comunità. Ecco, ma di fronte alla globalizzazione e ai problemi che ci porta, lei ne ha citato uno evidentemente, i territori riescono ancora a fare questa sintesi virtuosa di libertà e comunità? Oppure devono, per usare il suo termine, rinegoziare questa sintesi, inventare qualcosa di nuovo? Vorrei fosse proprio così, vorrei che si trovasse la soluzione a questo problema, ma non è una soluzione facile da trovare. Ve l'ho già detto, ho fatto tante ricerche su tanti modelli e modelli sociali che sul lungo termine non abbiamo abbastanza di una cosa e dell'altra. Non posso parlare di questo episodio dell'Italia perché non ho studiato la situazione italiana. Voi conoscete la situazione molto meglio di me. È una situazione diversa, unica. Voglio parlare in termini più generici. Vi ho parlato del fatto che i governi hanno problemi, non riescono a lavorare sulla promessa di sicurezza. Non ne avevo ancora parlato, ma c'è questo processo molto importante di globalizzazione. In termini pratici, la globalizzazione significa che c'è un divorzio in corso, una separazione tra il potere e la politica. Che cos'è il potere? È la capacità di fare le cose. La politica è la capacità di decidere quali cose vanno fatte. Negli ultimi cento anni il risorgimento qui in Italia si dava per scontato che ci sia un matrimonio tra il potere e la politica creati in paradiso e nessun umano può dividerli. che vivevano nello stesso posto, nello stesso nucleo familiare, chiamato Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione aveva il potere di fare le cose. Lo Stato-Nazione era creato dai nostri predecessori che decidevano collettivamente, negoziando, decidevano cosa bisognava fare. Questa si chiama democrazia. Proprio a causa della globalizzazione la situazione è cambiata. Il potere evapora. è evaporato, è salito verso l'alto, così per dire, nel sopranazionale, nel soprastato, nel ciberspazio, uno spazio globale. La politica però, oggi, nel 2011, è nello stesso Stato di cent'anni fa. Ma la politica è comunque locale, è ancora locale. La politica finisce al livello dello Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione non può, quindi, usare gli strumenti per poter gestire problemi che vengono gestire da potenze che fluttuano nello spazio globale. Città contemporanee sono dei cestini dei problemi che sono stati creati in alto. C'è un problema globale dell'inquinamento. È però il sindaco di Padova che deve gestire, che deve fornire acqua potabile pulita e deve far sì che l'aria da respirare sia pulita. C'è una discrepanza. Il potere in alto che può fare qualsiasi cosa gli venga in mente. D'altro canto, gli Stati sono indeboliti. Non hanno abbastanza potere per promettere in modo responsabile la ricerca della sicurezza ai propri cittadini. Il grande problema, comunque, è chi ci offrirà questa sicurezza. Quando ero giovane, il grande problema per la mia generazione sembrava essere che cosa aveva fatto. Adesso credo che il problema maggiore di questa generazione, della generazione attuale, sia chi farà qualcosa. Gli strumenti, le istituzioni dell'azione collettiva che i nostri padri, i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno elaborato, hanno creato nel passato, non sono più adeguate, non sono sufficienti per gestire i problemi globali.